Cassegna della macchina fotografica del cruscotto dell'automobile. Vsaisto Automobile Dashcam, IMX 323 1080p fotocamera frontale e 1080p IMX 307 Starlight Night Vision telecamera posteriore, videocamera DVR Dashboard Recorder da 4,5 pollici. Nota, questo articolo può essere consegnato in un punto di ritiro. Dettagli. Telecamera nascosta di fronte. Full HD 1080p, obiettivo grandangolare 130 gradi. Il sensore Sony IMX 307 Starvis supporta ottime prestazioni di visione notturna, porta una qualità d'immagine super nitida e un video cristallino. Wi-Fi incorporato e supporta Android e iOS, ti permette di visualizzare, in tempo reale, istantanea, riproduzione e download online in modalità wireless sul tuo dispositivo mobile. L'app supporta sia i sistemi iOS che Android. Facile da installare e utilizzare. Traccia GPS e G-Sensor curve. La traccia GPS e la curva del sensore G possono essere visualizzate nel lettore GVP dedicato. Registra contemporaneamente la parte anteriore e quella interna dell'auto. La fotocamera frontale è la visione notturna delle luce stellare e può monitorare, le condizioni dei bambini o di altri passeggeri dietro, la macchina in qualsiasi momento e alleviare la tua preoccupazione. Dettagli tecnici Marker Saisto Peso articolo 708 grammi Dimensioni del collo, 23 x 20,6 x 9,3 cm Pile, un metallo a litio pile necessarie Inclusi Riferimento produttore M4,5 Numero articolo M4,5 Dimensioni schermo 4,5 pollici Le pile, batterie, sono incluse? Sì, pile, batterie, richieste sì Tipo di connettori Wi-Fi Fai clic qui per fare la tua scelta Fai clic qui per fare la tua scelta Fai clic qui per fare la tua scelta Fai clic qui per fare la tua scelta